e questo cos'è non va bene via non lo voglio questo perché noi abbiamo un nuovo logo una nuova immagine una nuova comunicazione è questo questo è il nuovo logo di feder congressi ed eventi ed è il primo passo verso una nuova comunicazione questo diventerà questo per la nuova convention e il 31 marzo a bologna scoprirete anche tutta la nuova comunicazione è il nuovo sito vi do appuntamento proprio in quell'occasione per scoprire tutta la comunicazione dell'associazione si riparte e si riparte da qui